Alessandro, ma quanti anni sono passati? 8 anni sono passati Che ricordi porti con te in quella serata al centro viola? Beh, bei ricordi, divertimento, bei ricordi, bei momenti che ho passato qui in Calabria e qui a Reggio È stata una stagione intensa, questa C-Calabria-Sicilia, il livello non era malissimo, ci sono tantissimi punti trovati per il futuro, che stagione hai visto e hai vissuto? No, il livello si è alzato, diciamo, negli ultimi anni, anche con buoni giovani e vecchi, diciamo, che ancora se la sentono E per il futuro, ora pure con il cambio tra C-Silver, C-Gold, magari potrà portare sempre più spazio, speriamo, ai giovani, che è la cosa più importante È vero che avevi un'underis squadra che aveva più voglia di giocare dei piccolini, la costruzione dei vecchi? Ha voglia, ha voglia, lui è intramontabile, a 44 anni dava sempre il 100%, ma quella è la voglia e la passione che ti fa andare sempre avanti Più cresci, più hai voglia e più migliore Progetti per il futuro? Progetti ancora aspettiamo, valutiamo un po' le situazioni e poi si vedrà Grazie Grazie Grazie